Salve! Ma cosa fa? Dov'è? Chi? È occupata? Ma lei si rende conto di che ore sono? Lei ha ragione, lei ha ragione, ma mi sono svegliato, cioè nel cuore della notte qua ce l'avevo, qua. Mi capisce, no? Ma abbia pazienza. Le do anche dei 50.000 lire, eh? La sua tariffa. Su, Pli, c'è un cliente per te. Oh, mi fa lavare, eh? Si deve lavare. Venga. Posso? Sì, sì, accomodi, su, in camera. Senta. Mi puoi indicare, per favore, la strada? Ma c'è già stato, no? Cos'è? Non mi ricordo più, la casa è così grande che... Sì, è gentile. Domenico dove sarà cacciato? Domenico! Grazie. Collego, collego, Domenico! 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 Si è accomodi, qui, da noi. Domenico! Scusi. C'è qualcuno che sta male, da? E io vedo qualcuno a letto. Ma questo è Domenico. Oh, scemo! Oh, Cristo! Domenico! Ma donna, è pieno di sangue, eh? Ci sono una bella botta, eh? Donna, Domenico! È morto! Domenico! Adesso? Senta. Dio mia, ma com'è possibile? Aspetti, aspetti, ragioniamo. Stia calmo, stia calmo. Io sono un funzionario dello Stato. Ecco, adesso chiamiamo la polizia. Madonna! Bisogna chiamare la polizia, va. Sì. Come dice? Non la chiamiamo? Vabbè, forse ha ragione lei. Io la capisco, sa, perché... È una... È difficile, insomma. Sono fottuto così. Senta. Ma com'è possibile? Era vivo un attimo fa. Domenico! Pronto? Sì? No, Domenico non c'è. Sì, signore. Sì, ma questo è il telefono del business, no? Ve lo dico. Arrivederci. Arrivederci. Chi era? Sua madre. Ragioniamo. Ragioniamo. Noi abbiamo un corpo da far sparire. Bisogna chiamare la polizia. No, come chiama la polizia, caro signore? Se chiama la polizia io sono morto, capisce? E allora bisognerà farlo sparire noi, quel corpo. Esatto, esatto. Ecco, lei è una persona ragionevole, esatto. E come facciamo? Come facciamo? È semplice. Nascondiamo il corpo del bosco. Sì. Mandiamo la russa a casa sua col primo aereo e chiudiamo la casa per sempre. Sì, è giusto. Esatto, perché poi la russa, la cosa è... Beh, è giusto. Allora dai, andiamoci a fare, no? Oh, 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 calma. Dai. Non lo vede che sto mangiando? Prende anche lei i bombolotti, mangiamo. Dai, poi facciamo. Sì, però mangiamo e poi ci organizziamo. Ma che ho detto? Ho detto così, mangiamo e poi facciamo. Eh, va bene, va bene. Mancano un po' di pepe. Questo è vero. Questo è vero. Ma sai che? Forse, forse con qualche pezzettino di jamón spagnolo sarebbero stati ottimi. Vabbè. Però si parla di un altro tipo di pasta, quella era la pasta della matriciana. Vabbè, vabbè. Sarebbero stati buoni, sì o no? Sarebbero stati buoni, sì o no?